Eccoci qua, si va a parlare di Borgo Stazione, ma ovviamente come sarà per tutta la campagna elettorale faranno irruzione pakistani, afghani e altri che terranno banco per sempre. Pittone che è vessato quotidianamente dal messaggero Veneto, voleva dire qualcosa sui profughi, sui clandestini, sugli immigrati, sui migranti? Sento l'amministrazione tentare di far passare il messaggio che sono vittime loro dei numeri che sta subendo la città, non è così, perché ricordo che proprio alcuni giorni fa il Ministero ha dichiarato che Udine non dovrebbe gestire più di 300 migranti, allora è il caso di ricordare che di sua spontanea volontà il Comune gestisce 350 persone per il progetto Aura, altre 80 per il progetto Sprar e i 350 più 80 vanno a sommarsi ai 110 minori che sono in carico alla città, per cui siamo già quasi al doppio dei numeri che prevede il Ministero. Farebbe volentieri a meno il Comune, farebbe volentieri a meno se non ci fossero queste persone. Il progetto Aura è del Comune, il progetto Aura, questo è il discorso. Se non ci fosse il Comune di Udine dove sarebbero queste persone? Il progetto Aura, ricordo, è del Comune, 350 persone, solo con quello siamo già fuori di 50 persone. Pittone mi dici, queste persone dove starebbero? Ha scelto il Comune. Dove starebbero? La Chiarandini era in oridita perché 5 persone dormono fuori dal Comune. Il Comune ha scelto di gestire 350 persone con Aura e altre 80 persone con lo Sprar. Tu non dai delle risposte, stai dicendo altre cose. Sono tutti e due progetti di iniziativa del Comune. Non date risposte. Pittone, facciamo finta che Giacomello sia il mio opposto. Provai a rispondere alle domande, dove li mettiamo? No, no. Semplicemente, questi li ha voluti, il Comune è quella... Se non vuoi una risposta, rispondi a Tarasso, se non vuoi rispondere a me, rispondi a lui. Non è gente raccolta in strada. Non è gente raccolta in strada. Ha voluto gestirli in Comune. Siamo andati a prendere in Afghanistan con i pullman? Siamo andati noi, onsel, con i pullman a prendere in Afghanistan? No, ripeto, non è gente raccolta in strada. Pittone, Pittone. Il Comune ha deciso liberamente di gestirli. Sentiamo i candidati sindaco, fuorché Martinis, che aveva dei problemi, ma lo sentiremo altre volte. Abbiamo sentito onsel, quindi siamo contigui. Siamo abbastanza contigui. Prego. È chiaro che la stazione, in particolare, è la cartolina di una città. Questo è il primo elemento. Quindi, anche per chi arriva, anche se purtroppo siamo un po' limitrofi come sistema ferroviario, ma arriva nella nostra città, arriva Udine. È chiaro che la cartolina è il primo messaggio che riceve è quello di una città che non può essere, ovviamente, in una situazione di degrado. Questo è il primo elemento. L'altro elemento è che, effettivamente, senza spingere troppo sull'acceleratore, siamo giunti a una situazione che effettivamente sta creando, anche nel percepito della gente che ci abita, ovviamente il bisogno di sicurezza. E senza farla lunga o scomodare tanti discorsi, faccio l'esempio proprio di un mio carissimo amico, la cui figlia abita in quella zona, e che per andare in piazza a San Giacomo la sera mi dice, e questa è una persona moderata, insomma, prende l'auto perché non si sente sicura di rientrare magari a mezzanotte. E questo è un elemento che dice tutto sul fatto che dobbiamo, su questo, assolutamente porre mano, creare condizioni attraverso le ordinanze, attraverso una stretta correlazione, insomma anche con le istituzioni a ciò presidiate, a ciò deputate, anzi per creare condizioni e riportare quella zona, insomma, a una visibilità normale. La volgostazione è il problema principale. Io lo risolverei, se fossi sindaco, comunque se vincessimo le elezioni, prima con due ordinanze. La prima sui residenti, tutti devono essere censiti, controllate le residenze, perché lì c'è di tutto e di più. La seconda cosa è aumentare la sicurezza con controlli rapidi, non sporadici, all'interno di tutta l'area, che non va solo, diciamo, veramente a Borgostazione, ma tutta via Lopardi, via Carducci, via l'Europa Unita e quant'altro. E soprattutto fermare prima, cioè praticamente mettere uno stop agli esercizi pubblici che a una certa ora devono chiudere. Su Borgostazione ci sono due tipi di problemi. Il primo è legato alla sicurezza e il Comune deve fare la sua parte affiancandosi agli sforzi della Questura. Quindi ci deve essere una maggiore presenza della Polizia Municipale che vorrei ricordare la città ha perso il controllo sulla propria Polizia Municipale. Lo dobbiamo riprendere, quindi lasciando le uti, e ci deve essere una maggiore presenza della nostra Polizia Municipale sul territorio. L'altro problema è la sostituzione etnica. Questo è un problema epocale e credo che nel poco tempo che abbiamo a disposizione adesso sia un po' complicato fare un ragionamento. Ma la fotografia di quello che per noi è il problema della sostituzione etnica è la scuola Dante Alghieri. Tutti sanno che oggi credo che solamente il 5% degli alunni siano italiani. Borgo Stazione, o meglio il vecchio quartiere delle Magnolie, ha molti residenti udinesi che non ne possono più di una situazione che riguarda la sicurezza percepita, la sicurezza reale e comunque il degrado di molte strade, da Via Roma a Via Leopardi e le traverse di Via Leopardi. Ci sono abitanti che hanno investito i loro risparmi per comprare una casa lì e vedono depauperato il loro patrimonio a causa di una cattiva gestione di queste zone. Bisogna ripristinare dei controlli fissi, dei posti di polizia fissi. Se non sono sufficienti gli agenti che abbiamo in città chiediamo l'aiuto di pattuglie anche militari senza drammatizzare il problema. Intendiamo richiamare i vigili dall'Uti al comune di Udine e metterli sul territorio a presidio della sicurezza e del decoro della nostra città. Innanzitutto è un quartiere piuttosto interessante, molto ricco e anche variopinto, è eterogeneo e certamente ha alcune problematiche proprio per questo motivo, però ci sono presidi forti delle forze dell'ordine, costanti e anche da quelli che sono i dati che noi riceviamo dalla Questura e anche dai carabinieri non abbiamo certamente avuto una recrudescenza delle problematiche, anzi semmai appunto come standard di reati di varia natura. A livello italiano noi abbiamo decisamente valori molto bassi e addirittura un calo. Poi abbiamo anche da poco a Borgo Stazione messo da un paio d'anni anche la nuova caserma di quelli che sono i nuclei speciali dei carabinieri, quindi diciamo un ulteriore presidio di fatto di forze dell'ordine, pertanto, ancorché diciamo in borghese, pertanto credo che sia una situazione che giustamente va tenuta ad occhio ma non è certamente grave. Giacomello, tutto va bene madama la Marchesa. No, volevo dire per esempio che Borgo Stazione è un articolo recente del Messaggero Veneto, uno su tre, un residente su tre straniero. In via l'Europa Unita il 55% dei residenti è straniero, in via Leopardi il 42,2% e in via Nievo il 40,6%. Poi se prendiamo tutta la città si abbatte, per quello volevo parlare di Borgo Stazione, però insomma questi sono i dati. Ditemi una via di Udine dove non c'è un negozio sfitto. Dove non c'è un negozio sfitto? C'è una via Udine che non ha un negozio sfitto? No, credo di no, ci saranno. Allora, c'è una via a Udine dove tutti i negozi sono occupati. Via Roma, bravo, sono lento a quest'ora. Questa è una cosa bella o una cosa brutta? Chiedo. E stasera farei domande a Giacomello. Ma ci sono molti centri, molti negozi sfitti, anche perché ad esempio, non so, Via della Rosta ha il suo centro culturale, la sua moschea. Eh no, eh sì. Via della Rosta non ha mai avuto tutti i negozi occupati. C'è un centro culturale, poi c'è un centro in via Marano-Lagunare. Ecco, volevo dire, questi centri culturali... Mi rispondo alla domanda. Via Roma ha tutti i negozi occupati da sempre. È bello o brutto? Sono controllati? Ma... I sermoni vengono fatti in italiano? No. Allora, io mi sto preoccupando anche di questo aspetto, perché dalle moschee, si spacciano per centri culturali, in realtà sono moschee, lì dentro ci sono gli imam e come sappiamo in molte parti d'Italia certi imam hanno fatto dei sermoni abbastanza provocatori. Quindi io pretendo a casa mia, che la mia città e il mio paese, ci siano dei controlli regolari su questa questione, perché non vorrei un domani trovare l'imam che induce anche a fatti di terrorismo. No, venire, venire, prego. Per rispondere al vice sindaco, lui dice via Roma è tutta occupata full. Io ho un'attività, mia moglie ha un negozio, invia volontari della libertà. Se noi andiamo per tutte le vie di Udine, abbiamo avuto veramente in questi ultimi dieci anni una moria enorme di attività commerciali. Ora, la domanda qual è? Evidentemente esistono delle attività commerciali in determinate zone della città, con particolari merceologie della città dovute a un certo tipo di traffico di persone che regolano di più di altre. Infatti noi vediamo dai kebab alla bigiotteria, tutta una serie di cose. Ciò non vuol dire che logicamente noi possiamo fare diventare Udine tutta borgostazione. Allora, il ragionamento, la domanda... Ho detto questo, ho detto un dato di fatto. No, ma io cerco di dare una spiegazione che è un dato di fatto particolare. la particolarità della zona e la particolarità dei settori merceologici. Ho chiesto se è una cosa bella o brutta? No, è una cosa che mi lascia indifferente. Certamente nella situazione attuale non vorrei che la cosa diventasse una cosa generalizzata per la città. Ecco, non è un modello certamente edificante. Le pezze la vedo annoiato. Lei chiedesse... No, 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 seguo con interesse questa discussione. perché sì, effettivamente è una cosa importantissima occuparsi di come cambia la nostra società, come cambia la città. Quindi io sto seguendo la vostra discussione. Ma si è fatto un'idea? No, la mia idea è che c'è un travaso di popolazione dall'Africa e dall'Asia verso l'Europa perché in Europa si vive meglio. e questi stanno cercando legittimissimamente di vivere meglio queste persone. Ora il problema è che sono tantissimi e dunque bisogna... 1 miliardo e 216 milioni sono in Africa. Bisogna che noi troviamo un modo per regolarlo questo flusso. 1 miliardo e 216 milioni. In Africa. Ecco, dobbiamo... In Africa, in Africa. Che guardano all'Europa. Dobbiamo studiare il modo migliore per rendere il flusso tollerabile. Pittoni, brevissima questa reprimenda al messaggero Veneto. Allora, no, che non c'è un messaggero. Anche perché se te lo fai nemico... Allora, da una parte abbiamo il problema di un'amministrazione che gli immigrati li vuole, li cerca, perché questo è successo in questi cinque anni. Questa è follia. Dall'altra abbiamo una situazione che da cinque anni a questa parte è andata desenerando. Io sono entrato nel Consiglio Comunale di Udine proprio cinque anni fa, arrivando dalla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, quella che si occupa dei flussi, e già si sapeva in che direzione si stava andando. Ho portato una serie di mozioni che illustravo spiegando appunto che la situazione era destinata a degenerare e sono state sistematicamente stoppate, non sono state mai prese in considerazione. Perché non cambiavano niente? Perché non avrebbero cambiato niente? Bene. Davano una serie di indicazioni su cui il sindaco, cioè la prima vittima della situazione attuale, poteva sollecitare il governo. Non ha voluto farlo. In quel momento riteneva che non fosse alla portata dell'amministrazione locale. Da due anni il sindaco dice le stesse cose. Bene. Voltiamo pagina. Ovviamente ne riparleremo e credo che stancheremo anche probabilmente più di qualcuno. Ma voltiamo pagina e andiamo a vedere questa cosa dei passaggi a livello, così finalmente Venier può sbizzarrirsi. Prego. Grazie dello sbizzarrimento. Allora, io pongo un... siccome Giacomello qui mi dice se la mozione è intelligente o di buon senso, dobbiamo accoglierla. Giusto. Allora io pongo adesso una mozione di buon senso qui e dico, fatta la premessa che abbiamo fatto prima, la regione ha messo in budget 10 milioni di euro un paio di anni fa per iniziare a... Non l'ha arrivato, lo Stato. Lo Stato. Comunque, sono arrivati 10 milioni di euro a budget per fare cosa? Hanno raddoppiato tutta la tratta ferroviaria che passa in trincea dal Bearsi sostanzialmente fino a circa 500-600 metri dalla stazione, l'ultima curva. Di questi 10 milioni di euro, quindi hanno e inoltre hanno messo a posto i sistemi informativi tra le due stazioni perché c'erano... Facciamo vedere qualche passaggio a livello così giusto per non fare troppa propaganda. Esatto, c'erano dei problemi grazie della propaganda. Ora, noi quello che chiediamo come comitato è questo. È possibile che per fare quei 500 metri che mancano per raddoppiare sostanzialmente la tratta e quindi permettere ai treni di passare tranquillamente come passano adesso perché oggi tutti i merci già passano di lì. Ma se vogliamo completare l'opera con il resto di quello che era stato messo a budget, che hanno speso circa 6-7 milioni di euro, noi completiamo la tratta. La domanda è, perché non si fa? Perché si dice che dobbiamo aspettare progetti che collegano Trieste a Udine con circonvalazioni, tutti i programmi che noi conosciamo? Quando oggi è fattibile questo fatto? Noi vogliamo una risposta di questo tipo e non possiamo per una cosa del genere sentire dire in un documento scritto che in accordo con le ferrovie dello Stato fra 5 anni si prenderà in considerazione l'eventuale fattibilità. Ecco, noi chiediamo perché non si possa fare da subito questo tipo di operazione. Quindi c'è una volontà politica in questo caso. Sentiamo la risposta. Allora, il discorso della storia dei passaggi a livelli, c'è una premessa da fare che è importante, che i comitati sono nati, ricordo bene, per lo spostamento delle merci, perché c'era il problema di Viareggio, c'era questa cosa qua. Si è parlato di merci all'inizio. No, non è vero. E le ha attratta. Comunque, si è parlato delle merci e si è cercato subito di spostamento. Qui mi permetti, Giocamelo, perché io abito lì e sono dieci anni che discutiamo, non si è mai parlato solo di cose parziali. Non ha senso. Abbiamo due ferrovie per interagire. Ma non sto dicendo di cose parziali. Seconda cosa, la decisione, logicamente, è politica fino a un certo punto. Cioè, chi è che decide se spostare o meno le cose? Cioè, i proprietari della tratta, che sono ferrovie dello Stato. Quindi tutte le scelte che possiamo fare noi sono imprescindibili rispetto ai progetti delle ferrovie dello Stato, che sono più ampi di quelli che pensiamo. Fino a un certo punto, se non sei l'amministrazione. Io non posso dire, le amministrazioni, facciamo, la ragioniamo per assurdo? Ragioniamo per assurdo? È mancata la pressione dell'amministrazione. 50.000 firme a Udine, è una riflessione. Lascia un momento. Allora, 50.000 firme di un comitato a Udine per spostare la stazione per evitare borgo stazione. Diciamo una stupidaggine grande come una casa. Ok, le ferrovie spostano la stazione? No, ma qui non stiamo parlando di una stazione. Allora, diciamo, ragioniamo per assurdo. Quindi, per dire che le ferrovie giustamente hanno l'ultima parola su questo. Il progetto non è un progetto solo legato ai passaggi a livelli, che è logico che una volta spostati i merci è inutile tenere uno da una parte, uno dall'altra. Questo è logico sta cosa qua. Però sono dei passaggi che, dal punto di vista, un conto è un passaggio merci, un conto è un passaggio passeggeri. Per un semplice motivo che non riguarda solo gli abitanti, anche, non l'unico motivo, che riguarda la via Cividale. Voi sapete benissimo che ci sono, il problema quando sono state spostate le merci, il problema si è spostato da un'altra parte della città. che ci sono persone che prima non avevano il danno, adesso hanno il danno del rumore nella zona del sottopasso di Laipaco e nella zona di Pradamano. Ma è sempre una questione di priorità? No, 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 diciamo che il problema è, non è che lo sposti da una parte e risolvi il problema, il problema va risolto in maniera intera. Quindi vuol dire barriere antirumore, vuol dire determinati percorsi con determinati passaggi di polizia di treni. Questo non vuol dire non fare i lavori, questo vuol dire farli nelle determinate tempistiche che possono essere, svolgere, raggiungere il risultato. Permetto se mi sovrappongo, ma abbiamo fatto, allora, cosa abbiamo fatto a fare una ferrovia in trincea? Voi avete, il comitato, il comitato ha un merito straordinario, avete avuto un merito straordinario e l'ho sempre riconosciuto, quello di sollevare un problema, che era quello legato alla ferrovia interrata, che era fatto a fare un lavoro, perché una volta probabilmente c'era la disponibilità finanziaria. E per fortuna che l'hanno fatto, oggi non l'hanno più fatto. In altre città hanno fatto altre scelte, in altre città hanno fatto questo e veniva sfruttato questo. Il comitato ha sollevato questo problema e aveva dato il merito in maniera totale al comitato aver fatto questo. L'amministrazione non ha fatto la sua parte. Ma Dio, Pittoni, guarda, veramente, ma veramente, proprio non ci siamo oggi. Posso dire qualcosa? Allora, il discorso è, fatto questo passaggio, ci sono delle tempistiche, perché dipende anche dalle ferroviarie dello Stato e anche dipende di cosa vogliamo fare, di quella tratta dopo. Adesso do l'imbeccata a Pittoni. Le tempistiche RFI si impegna ad effettuare una valutazione di fattibilità tecnica dell'ipotesi di trasferimento del traffico. Questo è il linguaggio che si utilizza a Roma quando non si intende fare nulla. Tant'è vero che io il giorno stesso ho preparato una mozione con cui chiedevo all'assessore regionale Santoro e al sindaco Diudino di togliere la firma, perché hanno autorizzato RFI ad aspettare 5 anni, 5 anni, solo per vedere se poi è il caso eventuale di valutare la fattibilità. Questo vuol dire anche, Pittoni, cosa fai della tratta che togli? Avete regalato 5 anni a RFI, questa è la realtà. Io non faccio una campagna elettorale con i soldi, guarda, chiudiamola qua, con i soldi io non faccio campagna elettorale. E quando ho portato la questione in consiglio comunale, la maggioranza si è spaccata. Ancora le tue emozioni. Perché una parte si è astenuta. Pittoni, non urlare! Porca Eva. Una piccola cosa. No, adesso sentiamo cosa dico. E il comitato era d'accordo con me. Adesso sentiamo il candidato di sindaco, così ci calmiamo un attimo, altrimenti... Io vorrei su questo, perché so che siamo già da tempo purtroppo in campagna elettorale e so che giustamente si rischia poi, quando ci sono dei comitati che fanno battaglie da tempo, di essere vissuti come quelli che all'ultima ora o ridoste alle elezioni fanno le promesse. Questo è lungi da me, anche perché ho in questo caso un punto di partenza, il fatto di aver vissuto per 15 anni, forse più, in quella zona. via Piazza D'Armi. Quindi, al di là di tutto, il problema mi è noto per averlo vissuto. È un tema che ovviamente la città, la futura amministrazione regionale e comunale in particolare, diciamo, non può risolvere da sola. Ma sicuramente qui, in passato, siamo stati un po' troppo, come dire, lenti e francamente abbiamo creato illusioni. Bisogna stringere i tempi. Questa amministrazione regionale, sicuramente anche sulla spesa dei comitati, ha cercato di muoverci, è chiaro che il problema deve essere risolto con una stretta connessione, anche con un pungolo permanente, ovviamente regione, ferrovie dello Stato e questo è. Il traffico pesante, chiamiamo così, non può continuare a andare su questa ferrovia, ma deve essere già gradualmente, ma deve essere completamente spostato. E la prospettiva non può non essere in una città moderna, quella che poi è l'aspettativa che tutti abbiamo avuto di superare quella linea ferroviaria, farla diventare, perché no, una pista ciclabile, piuttosto che veramente un momento di vivibilità per la città e non solo, pensando anche a un collegamento con Alpe Adria, per quello che ormai è un sviluppo anche ciclo turistico e quindi togliere questa ferita che divide la città in due. Noi purtroppo siamo stati fregati, tra virgolette, da parte del Ministero e anche lo stesso Comune che ci ha messo molto impegno, perché hanno firmato un protocollo d'intesa con le ferrovie dello Stato, ma questo protocollo d'intesa presuppone una serie di finanziamenti che giustamente arriveranno dopo che hanno fatto il terminal giù nella Zio. Allora, io dico, fra cinque anni avremo ancora il problema di passaggio di livello, perché prima vogliamo iniziare dalla parte sud di Udine per poi arrivare a chiudere i passaggi. È uno spreco, soprattutto di tempo, perché c'è già il passaggio all'interno, cioè il tunnel che praticamente conduce alla seconda linea ferroviaria, che è già pronta. Basterebbe solo un investimento di 60-70 mila euro, da quello che ho capito, quindi è una presa in giro. Su questo noi non intendiamo assolutamente, per nessuna ragione, dare l'ok. Qui c'è un problema di principio. Nel 2012 sono state raccolte 8 mila firme per l'eliminazione della tratta e lo spostamento verso l'esterno della città lungo la circonvalazione. Nel 2015 il Consiglio Comunale attuale ha votato quasi all'unanimità con quattro astenuti questa proposta, pacta su un servanda. I patti vanno rispettati, quindi la tratta va spostata sulla circonvalazione esternamente la città e la vecchia tratta deve diventare una grande opportunità economica. Una ciclo pedonale che si vada a ricollegare con la ciclo pedonale dell'Alpe Avria. Qui è un problema molto chiaro. La regione non è mai intervenuta in maniera decisa sulle ferrovie dello Stato per utilizzare tracciati ferroviari che ci sono già e che alleggerirebbero il carico del passaggio dei treni nei confronti di quelle zone che giustamente protestano. Era solo ed esclusivamente un problema di volontà politica e di incisività della nostra regione nei confronti delle ferrovie dello Stato. Non è stato fatto perché evidentemente Udine è la cenerentola da anni nella nostra regione. Il tema della ferrovia è un tema che abbiamo analizzato molto negli ultimi anni e siamo riusciti ad ottenere dalle ferrovie dello Stato che per quanto riguarda la tratta che attraversa la città non venga più utilizzata dai treni merci, non venga più utilizzata dal materiale in manovra e soprattutto a livello notturno praticamente sia ridotto l'uso se non quando oggettivamente ci sono delle problematiche che si sono verificate in alcune situazioni in passato però sono state molto circoscritte. Certamente togliere le linee completamente e quindi questo vorrebbe dire anche togliere i percorsi per quelli che sono i treni pendolari e le ferrovie dello Stato dicono che si può fare soltanto da qui a 4-5 anni quando effettivamente saranno risolti certi problemi sulla linea che vuol dire sia il completamento ma anche soprattutto la realizzazione delle connessioni di pianificazione anche con Venezia e poi con Milano perché bisogna sincronizzare tutti questi convogli e qui ci sono appunto dei minuti di ritardo. Io non penso che sia molto grave questo problema anche di eventuali ritardi però certamente le ferrovie dello Stato finalmente hanno completato il percorso e hanno promesso che stanno studiando un modo per eliminarlo e bisogna riconoscere appunto che qui dopo tantissimi anni di cui si parlava su questi argomenti poi soltanto diciamo recentemente con la giunta Seracchiani con la Santoro sono arrivati i soldi per completare la ferrovia quindi anche grazie appunto alle nostre sollecitazioni. Certamente il tema della ferrovia è un tema che è molto sentito però se uno poi vuole anche immaginare di riutilizzare questo spazio che certamente sarebbe molto bello qui di nuovo ci vogliono tanti investimenti insomma sono opere molto impegnative quindi bisogna ragionarci questa è la direzione nella quale andare. Posso pensare ad altre città che hanno diciamo tolto una linea ferroviaria e rendendo diciamo un luogo di grande attrattiva non so mi viene in mente quello che ha fatto il sindaco di Gerusalemme però ecco insomma capite bene che l'investimento che c'era lì era di ben altra misura rispetto a quello che possiamo diciamo fare noi. Con tutto il rispetto secondo me ha usato troppe parole in questa risposta. Lasciando perdere Gerusalemme che ce n'ha già per conto suo al signor sindaco che si capisce che non è credibile non è credibile nel senso che ripeto quando si comincia a ragionare di collegamenti di software ma nel 2017 se non c'è la volontà di fare le cose impieghiamo cinque anni per collegare due stazioni non siamo mica in India Bangalore qui siamo in Friuli siamo in Italia ora ribadisco ritorna sempre il concetto delle ferrovie dello Stato sembra che chi comanda siano le ferrovie dello Stato lo capisco Giacomello però esiste anche una volontà politica che va dal comune alla regione la quale in funzione della della caratura che hanno nei confronti avevamo scusate mi permettete mi permettete avevamo la linea di comando tutta da parte di un centro a forza politica il centro-sinistra in comune il centro-sinistra in regione il ministro dei trasporti del rio al governo era possibile che con questa comunione di intenti non fosse possibile fare una certa pressione dei confronti della ferrovia non c'è la volontà politica Stato e questo lo pagheranno ecco ha capito anche lei come funziona volevo aggiungere una cosa sul discorso del business immigrazione cioè noi in questa petizione chiediamo semplicemente si ma a presente che stavano parlando di un'altra cosa mettiamo i profughi nel treno dai li facciamo girare non eravamo su questo argomento no che non eravamo su questo argomento devo parlare anche io dei treni no dei treni della considerazione che si sta facendo sul ruolo del comune sulla regione chiediamo che il comune si faccia pressione presso le sedi istituzionali affinché ci sia una rendicontazione delle associazioni che diciamo godono di tutti questi bei soldini che ferrovie no l'associazione quella sarebbe da fare quella sarebbe da fare è Croce Rosso repezza repezza quando sono stato quando ci siamo trovati ha fatto dei bei ragionamenti attorno alla pianificazione alla programmazione eccetera eccetera e mi diceva che la ferrovia passava una volta dove c'era la campagna certo la ferrovia di Udine come la stazione alla fine dell'ottocento tutte le stazioni sono state fatte in fregio alle città non sono a parte Milano dove si è entrati a porte dalle varie porte di Milano per andare il più vicino possibile al centro con le diverse stazioni che ci sono a Milano che sono state create allora ma per le città come Udine si è passato in fregio e questo ha portato allo sviluppo di tutta la città intorno davanti e anche sull'altro lato che è avvenuto dopo il passaggio dopo l'arrivo del treno e quindi servono pianificazioni molto intelligenti questo è il punto cioè volevo dirlo c'è una questione generale che riguarda la carenza di pianificazione urbanistica questo problema che la ferrovia è stata in gran parte inglobata dentro nella città andava affrontato in sede di pianificazione dovevano già prima pensarsi i mezzi di svincolare tutto il traffico merci quando è stata creata la zona annonare la ZAU e la ZIU lì vicina c'era la possibilità di creare anche lo scalo invece questo non è stato fatto lo scalo apposta per quello perché queste aree la zona industriale ZIU e la zona annonaria dovevano attirare la gran parte del traffico merci per cui andavano servite appositamente e andava studiato a livello urbanistico tutto questo benissimo vediamo se andrebbe ancora fatto perché mi pare che siamo ancora lì a mettere delle pezze ma un discorso che si possa fare che poi deve essere fatto con tutto l'interlandusinese si poi incombono i corridoi europei quindi poi magari stiamo a vedere cosa succede vediamo se siamo ancora in tempo a fare un po' di pubblicità a fare un po' di pubblicità a fare un po' di pubblicità